Sì Romanno sono tre ore che trasporto libri, manca un mese i giovedì del libro, sicuro che sia necessario? Beh certo, Fabrizio è un buon organizzatore, si prepara per tempo, poi un mese, cavolo! Ho capito, ma io non so se vado avanti di questo passo se ci arrivo al 19 di giugno, eh? Vediamo di arrivarci, poi dopo se arriva il 19, poi dopo schiatti, va bene lo stesso, tanto dopo le altre le faremo noi. L'importante è partire. Adesso sentiamo Sergio come hai messo, perché anche lui è sempre un po' in ritardo. Eh, da buon organizzatore eh! Ma cos'è quella roba? Guarda, Sergio parla con lui o vado con la sale sul tavolo? Cioè, in questi giovanili oggi non ce la fa mica? Assolutamente! Ma dici che Fabrizio ce la fa a seguire la terza edizione dei giovedì del libro? Non lo meno, anche perché la prima serata è impegnativa, eh? Sì, chi c'è? Doviamo anche averli a scopare che la prima serata... Poi? Eh! E qui sei già parlato adesso, ti immagini quando arriva quella sera finita. Ah, va bene! Al 19 giugno non ci arriva vivo! Sì! E quindi per poi non ci arrivano dei tuoi, Sergio? Eh sì, sì, sì! Deve per poi non! Sì! 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 Sì!